Due amici, Beppe, questa settimana è tornato mio cugino dall'America a trovarmi. Tu lo sai, gli americani hanno tutto più grande di noi italiani. L'ho portato al frescofrutto a fare la spesa, arriviamo, c'era una cassa con i limoni. Questi cosa sono? Come? Questi sono i limoni. Da noi in America, molti più grandi limoni. Una cassa con le pesche? Queste cosa sono? Queste sono le pesche. Da noi in America, molto più grandi pesche. Arriviamo a una cassa con le mele? Questi cosa sono? Come? Queste sono le mele. Da noi in America, molti più grandi mele. Beppe, arriviamo a una cassa con i cocomeri. Questi cosa sono? Questi sono i piselli sgranati.